siamo qui davanti agli uffici del comune con un esponente di asia usb voi avete siete saliti per la convocazione di un tavolo che riguarda gli aumenti del tè del riscaldamento in questione sollevata anche dal quartiere le vallette denunciate che sono stati aumenti fino al 110 per cento e che non sono previsti bonus per il pagamento del tè riscaldamento mentre ad esempio per il riscaldamento a gas sono previsti bonus come andato questo tavolo col comune ma allora noi stiamo accompagnando l'avvertenza che i cittadini delle vallette stanno portando avanti da un mese a questa parte la sposiamo perché è un problema che tocca soltanto una città metropolitana di torino circa 650 mila persone e in tutta italia i numeri vanno a crescere perché è un fenomeno che avviene in tutte le altre città ma è stato un tavolo preliminare in cui abbiamo detto quali sono le nostre posizioni oltre oltre quelle riportate già nella petizione consegnata e abbiamo dato anche spunto per delle idee che dovrebbero essere alla base visto che il comune è partecipato a una partecipazione pubblica dentro la società di iren e quindi riceve anche degli utili che questi utili vengono destinati ad uso sociale che vengono destinati appunto in un momento di crisi e delicato come questo anche a tua ad attuare politiche di calmerazione per gli aumenti come abbiamo visto verificarsi nelle bollette dei teli riscaldati sì ma l'esito di questo tavolo secondo voi è stato positivo negativo non c'è un esito positivo un esito negativo perché era stata una chiacchiera preliminare per come il comune si è mossa questa settimana qua quello che ci servono sono fatti concreti fatti concreti che devono uscire dal tavolo quindi con tutte le parti chiamate parti sociali chiamate in causa precedenza ma è anche importante dire che in questo tavolo qua ci sia la presenza dei direttamente interessati quindi dei cittadini italiani riscaldati e parti sociali grazie grazie